Commento negativo perché abbiamo secondo me iniziato male dal punto di vista difensivo la partita, senza subire particolarmente territorialità, però avevamo qualche problema di troppo nella gestione del reparto e quello ci è costato anche se la situazione è stata un po' brutta, sporca, costato un po' il primo gol. Poi siamo abbastanza registrati, secondo me abbiamo fatto un buon seconda parte il primo tempo dal punto di vista del volume, anche se poi dava un po' a sbattere, nel senso che poi in tutte queste occasioni non si è riuscito a crearle, però sicuramente hai tenuto più la palla di loro. Ho visto un Ancona abbastanza impaurito anche dopo l'1-0, non ho visto una squadra dall'altra parte così arembante, una squadra che era abbastanza preoccupata per il suo momento e tu ovviamente devi pensare al tuo. Secondo me la seconda parte del primo tempo è stata anche positiva, se andiamo a vedere quell'iniziativa. Abbiamo cercato di mettere a posto delle cose a fine primo tempo, siamo andati in campo, secondo me, forse ancora meglio, perché all'inizio del secondo tempo è stato sicuramente positivo, fino al 2-0. Fino al 2-0 la partita si poteva riaprire, abbiamo avuto una occasione importante con Santini, non abbiamo concesso niente e dopo se prendi il 2-0 diventa una partita che non hai più la forza per andare a prendere, perché comunque ci avevamo contro, comunque un avversario valido a livello individuale, non va dimenticato. E quindi poi non sei stato all'altezza della seconda parte del secondo tempo sicuramente. Troppo poco dai, diciamo, per fare il risultato da Ancona, questo poco ma sicuro.